buongiorno italia buongiorno maria con gli occhi pieni ma no c'entra un caso c'entra un caso da quando ho comprato il mio camper il mio granduca scarosso praticamente non ho mai fatto un tagliando quando lo comprai aveva segnato tipo 130 mila chilometri oggi siamo a 153 mila tutto questo chilometraggio non è mai stato cambiato l'olio è stato solo rabboccato non è mai stato cambiato il filtro dell'olio il filtro del gasolio e non è mai stato pulito il filtro dell'aria andremo a fare queste cose domani con lo zio che mi insegnerà così sarò anche autonomo per quanto riguarda italiani e magari vedo se riesco a fare anche un video no magari giusto così le i primi piani no alle cose che facciamo e dopo magari metterò la voce sotto col microfono che spiego insomma quello che stiamo facendo costi tu mi dirai no quanto costa farsi un tagliando da solo allora tagliando in officina beh tu sai già che ti può variare dalle 200 alle 400 passa euro perché sai come i meccanici purtroppo ti dicono costa totta l'ora però le ore che mettono in conto dopo si sa sono sono quel che sono o magari sono anche vere solo che poi si mettono tipo a parlare al telefono ricevere la gente eccetera l'orologio avanti però intanto è quel tempo che doveva essere dedicato a te quindi non agli altri però purtroppo visto che così funziona che te dodi quindi facendoci il tagliando fai da te tagliando in casa parliamo dei costi allora qui abbiamo il filtro dell'olio ma questo è il filtro del gasolio fuel filter quindi filtro della benzina del gasolio montaggio oliare la guarnizione avvitare fino al contatto serrare per tre quarti di giro verificare la tenuta con motore acceso è un pezzettino vedi piccolino ovviamente il modello che tu leggi qua è per il mio camper parliamo di un fiat ducato 1.9 turbodiesel del 1991 ogni motore ha il suo modello la cosa che ti consiglio vivamente quando vai a prenderti questi tipi di ricambi e portarti il libretto nel libretto del camper comunque della macchina la moto quel che è c'è una sigla identificativa del veicolo e loro con quella sigla sfogliano nel loro catalogo e trovano i pezzi giusti per il tuo modello costo di questo filtro 16 euro e 10 centesimi sconto 40 per cento non so perché forse hanno visto con la faccia a singola nel tonore questo spaga bottiglia massa famiglia facciamogli lo sconto del 40 per cento cioè così senza neanche dirglielo proprio passiamo poi a il filtro dell'olio il filtro dell'olio come puoi vedere è piccolino anche questo è della stessa marca che ho già montato perché ho già visto quello che avevo io quindi questo è proprio identico in tutto e per tutto costo filtro olio anche qua 13 29 con lo sconto 40 per cento per spago bottiglia massa famiglia alla fine 7 97 totale in ogni caso in anyway che ho pagato 21 bomboloni e 50 centesimi a ecco sì per l'olio non ho detto il prezzo perché l'olio ce l'avevo già io praticamente a casa mi sono rimasti tipo 4 litri e mezzo e avevo preso la tanica da 5 litri una cosa solo che ti posso caldamente consigliare per i camper vecchi per i motori vecchi e prendere un olio minerale non sintetico io ho fatto tra virgolette un po di fatica a trovarlo poi sono andato in questo posto che hanno di tutto e la ovviamente ce l'hanno però andando dal beps di qua e di là no non lo trovi è costo mi pare sulle 40 euro sai più o meno 40 qualcosa si è costicchia però almeno vai tranquillo insomma ecco per quanto riguarda la pulizia del filtro dell'aria la basta un compressore basta soffiare col compressore ho ricordi di chi lo lavava proprio e poi va bene lo faceva asciugare ma io credo comunque che con una bella passata di compressore vai via tranquillo insomma ecco altre cose no direi che potremmo procedere ai video quindi adesso saltiamo a domani ok tra l'altro adesso anche surface che non mi tiene più la carica e la batteria devo tenerlo sempre sotto corrente cioè tu stacchi la presa della corrente si spegne e ogni tanto si spegne anche sotto corrente quindi per me è un grandissimo problema questo adesso siamo i primi di gennaio i primi di febbraio 2 febbraio avremo raduno diciamo con camperisti full timer un piccolo incontro che ho provato a organizzare sto pensando se mandare in assistenza adesso perché surface fino ad aprile è ancora in garanzia quindi te lo riparano gratuitamente tutto quanto secondo me sono molto veloci perché avevo già una volta cambiato una tastiera quindi io mi azzarderei questa sera trovare la scatola stampare l'etichetta che ho già prenotato il reso e tutto quanto e domani lo spedisco subito sarà un po dura perché sai per me da sempre praticamente informatico il surface in realtà è un po il tutto no perché il surface la mia radio il mio stereo è la mia televisione i miei libri perché insomma anche molte robbie in ebook o comunque articoli salvati nel mio telefono il mio modo di comunicare il mio album delle fotografie è la mia collezione di videocassette dei filmati che ho fatto io è il mio strumento per fare i filmati cioè il surface o comunque il computer al giorno d'oggi è un po il tutto cioè nel senso raggruppa tante cose no tanti oggetti quindi io adesso stare non lo so quanto senza il surface sarà duretta insomma non tanto per le comunicazioni che anzi ogni tanto anche metto in aereo il telefonino proprio per disintossicarmi no a sta mania aver sempre connesso ma proprio come strumento per fare le mie foto i miei video no e tutte quelle cose vabbè pensavo di mandarlo dopo il raduno per il discorso che la macchina fotografica va svuotata ho una memoria 64 giga però registra 100 mega al secondo quindi insomma hai capito i filmati li fa abbastanza grandi eventualmente mi farò prestare il portatile dall'ale o da qualcuno giusto per spostare i video dalla schedina ai miei hard disk esterni cioè modo a far solo da tramite una volta che io li ho negli hard disk esterni sono tranquillo la macchinetta è vuota poi quando mi torna al surface posso continuare a registrare no qui siamo jesolo jesolo paese sto andando a pinini col cp a mandare un fax in una tabaccheria per inviare dei documenti all'inps in quanto dal sito non funzionava si fa un freddo becco oggi ho fatto la richiesta della disoccupazione la naspi tramite il sito dell'inps potevo fare un tutorial e spiegare come si faceva però purtroppo vero cp purtroppo ormai è andata così così intanto stiamo tranquilli ci prepariamo tutto il discorso per fare i siti e via peccato solo che il surface mi abbia abbandonato proprio in questo in questo preciso momento accidenti non poteva scegliere il prima va bene dai